Sempre Adriana. Quindi c'era sempre Adriana quando venivi qui d'estate. Adriana fece con mia zia sospirando. Sembra così naturale udire il suo nome e invece è passato tanto tempo. Era così graziosa la signorina Adriana, una vera meraviglia. Che ha scelto le parole da incidere sulla lapide di Adriana? Domandai. Sono belle? Non è vero? È stato il farmacista. A me non sembrano belle. Sono lamentose come tutti i commenti funerari. Le lapidi sono sempre le stesse, disse mia zia vagamente. Per i maestri materiali non è così. Perché come dovrebbero essere chiese mia zia che cominciò ad apparire turbata? Dovrebbero essere più aderenti alla realtà e considerare la morte non un evento di cui lamentarsi ma un'apertura verso una maggiore libertà, verso uno stadio della vita che per la grande maggioranza degli incarnati è sicuramente superiore a quello che abbiamo vissuto da incarnati. Che cosa vuoi dire chiese mia zia che diventava inquieta ogni volta che si parlava della morte? Forse il fatto di avere speso un'intera vita a spolverare mobili l'aveva arrestata in una maggiore comprensione dell'esistere. I mobili e gli oggetti inanimati erano le sole cose che avesse imparato a conoscere. Il volto di mia zia si rigidì. Io mi schiarì la gola e ripresi. Vedi zia, quando uno ha bisogno di scrivere e di leggere sulle lapidi sempre le stesse cose, significa che avverte la mancanza di qualche cosa. Che cosa? Di una vera fede, della certezza che dopo la morte fisica non c'è il nulla, gli manca uno spazio intimo che non riesce a riempire, che riuscirà a riempire in una prossima vita. In una prossima vita? Sì, per riempirlo in questa vita tu dovresti cercare di comprendere te stessa quando spolveri i mobili, quando metti le posate a tavola, quando metto le posate a tavola, mi interruppe mia zia con un certo entusiasmo. Sì, in pratica, quando cerchi di conoscere te stessa in ogni momento della giornata. Di colpo il volto di mia zia si rabbugliò e divenne inespressivo. Congiunse le mani in grembo, la linea delle sue labbra si assottigliò e disse, ma che mi racconti? Sì, zia, se uno vuole avere tempo per conoscere se stesso, lo può fare in qualsiasi momento della giornata. Niente gli può rubare questa possibilità. Mette una posata a tavola e pensa in quale altro modo poteva agire. Cammina per la strada e pensa in quale altro posto poteva essere per essere migliore. Ma quando in parrocchia viene il maestro di yoga, io medito, mi interruppe mia zia, rianimandosi improvvisamente. Zia mia, i maestri dell'Ifior ripetono che l'unica vera meditazione è la tua vita. Cerca di conoscerla e avrai meditato quanto basta per comprendere ciò di cui hai bisogno ora e sempre.